Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio termometro politico di oggi, lunedì 12 febbraio 2024. Fratelli d'Italia al 28,8%, il PD al 19,6%, il Movimento 5 Stelle al 16,3%, la Lega al 9,5%, Forza Italia 6,5%, Azione 3,7%, Sinistra Verdi 3,1%, Italia Viva 2,7%, più Europa 2,5%, Democrazia Sovrana Popolare 1,6%, Unione Popolare 1,4%, per l'Italia 1,3%, Noi moderati 1%, altri partiti 2%. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.